Sarà Dino Pagliari l'allenatore che sostituirà Franco Lerda sulla panchina del Lecce. I tesoro hanno preso tempo e hanno fatto ricadere la scelta. Sul tecnico marchigiano c'è da dire però che la decisione è giunta dopo che la prima opzione della società, Alessandro Calori, ha rifiutato la proposta del suo delizio di Piazza Mazzini. Per Franco Lerda arriva il secondo esonero in terra salentina. La famiglia di Spinazzola ingaggia così il sesto allenatore in meno di due campionati e mezzo sulla scia di importanti presidenti quali Cellino, Zamparini e Moratti, senza mai raggiungere l'obiettivo e collezionando fallimenti in sequenza. Già domani il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento. La ripresa infatti è fissata nel pomeriggio di domenica al Via del Mare.